Prima di dirlo sugli schermi di La Sette, dispone un lancio d'agenzia in cui spiega le ragioni del sostegno ad un governo di marca stellata. Il Paese non ha la possibilità di attendere lunghe trattative. Si deve sapere subito che il PD sosterrà i pentastellati, augurandoci che il Presidente della Repubblica, incoraggiato da una disponibilità da parte nostra, possa pensare che sia il Movimento di Grillo, il partito che ha maggiori probabilità di comporre un governo. Il messaggio di Michele Emiliano, che Correnzi ha perso le primarie e che invece di andarsene, come ha fatto D'Alema e Bersani, è rimasto lì a rispettare la volontà della maggioranza DEM. È chiaro. L'idea di governare con i grillini, Emiliano l'aveva già avuta subito dopo la sua elezione a Presidente della Regione. Non ha mai smesso di fare la corta ai consiglieri del Movimento. Adesso che i grillini hanno abbandonato la pista solitaria e ipotizzato alleanza di governo, non solo invita il PD a valutare l'eventuale offerta di Di Maio, ma, statene certi, spalanchierà la porta di Via Capruzzi al Movimento 5 Stelle. Quanto a Renzi, Emiliano dice, è inutile parlare ancora. In questo momento è dimissionario, quindi non ha più titolo per parlare di politica. Deve fare il senatore del suo territorio.